3, 2, 1, Chuck si gira. Questa giornata, una nuova giornata, sono le 18 di sera. Questa giornata non è per niente terminata. Tu sei tranquillo, hai terminato la tua giornata, ti rilassi. Hai già programmato tutto quello che farai in questa serata. Eppure la vita ti riserva sempre delle sorprese. Ci sono per ognuno di noi delle sorprese in riserva. Quando non ci basta più la nostra terapia principale, quotidiana, quando ne abbiamo bisogno di più, la vita ci dà la più grande di tutte le riserve. Ci dà la sorpresa. Ci fa cadere dalla sedia ad un colpo. ci fa boom, ci coglie alla sprovvista, ci coglie in contropiede, ci coglie, ci coglie, ci coglie. E noi, come una buona, una buona erba, ci lasciamo cogliere e falciare da quella sorpresa, da quella vita che voleva semplicemente giocare con noi, che voleva vedere se eravamo qua o se stavamo da un'altra parte addormentati pensando che la giornata era finita. Ma che sorpresa quando realizzi che non c'è nessuna giornata che inizia e nessuna giornata che finisce. C'è solo la vita che scorre, scorre nelle tue vene. Tu sei quella vita. Allora adesso, in questo momento c'è tutto il tuo mondo. C'è tutto quello che è possibile dentro di te in questo momento. Non c'è neanche domani. Poi è chiaro, per intenderci, per capirci. Diciamo, ci vediamo domani, settimana prossima, l'anno prossimo. Ma anche se vi dico a domani in realtà non esiste quel domani. In realtà quel domani è già tutto qua adesso. Perché domani sarai quello che sei e hai fatto adesso. Elementare. Allora vi saluto, vi auguro una bellissima serata di riflessione e di azione. Haug. Like my movie, like al video e iscriviti al canale. Tutto. Grazie.